9 Settembre San Gorgonio, Martire e due Testimoni Come trovammo un martire a vegliare la culla di Gesù, Santo Stefano, troviamo ora un martire a vegliare la culla della madre di Gesù, San Gorgonio. All'inizio dell'anno liturgico la Chiesa ci insegnava che Gesù veniva per soffrire e che chi voleva seguirlo doveva soffrire e rendergli testimonianza. L'anno liturgico è ora verso il suo termine e la Chiesa, proponendo al nostro culto e alla nostra imitazione un numero così grande di santi, ci ripete lo stesso insegnamento. Per comprendere meglio, prendiamo ad imprestito la relazione di Bossuet, che recitò a Metz l'eloquente panegirico del martire che oggi vogliamo onorare. La vita è combattimento. Non senza motivo l'Apostolo ci esorta ad essere sempre in armi, Efes. 6. N. Perché noi sappiamo dalla parola di Dio che la vita è una continua lotta, Job. 7. 1. Lo Spirito di Dio, che abbiamo ricevuto nel Santo Battesimo, riempie le anime nostre dell'idea di un bene superiore, per indurci a guardare con disprezzo le agitazioni continue della vita umana. Ma, voi lo sapete, non c'è impresa grande che non incontri grandi ostacoli. Il mondo tutto si sforza di combattere questo disegno, adversos nos omnis mundus armatur. Il mondo urna di falsa bellezza tutte le sue creature, per tentare di sorprenderci con questo vano fulgore e, se siamo abbastanza forti per sdegnare i suoi favori, ci presenta tutto un apparato di pene e di supplizi per intimorirci, sicché è necessario che il servo di Dio sia ad un tempo senza paure e senza speranze terrene ed ogni lato irremovibile e inesorabile. Tale fermezza ha scatenato le potenze della terra contro i difensori della fede e le anime eroi che non sono piaciute al mondo e il mondo non poteva piacere a loro, ecco la causa delle loro contrarietà. Il mondo non piacque a loro e lo disprezzarono. Esse non piacquero al mondo e il mondo prese piacere a perseguitare chi non poteva far suo. Tutto avvenne per un disegno segreto della provvidenza per compiere le parole memorabili del Salvatore, non sono venuto per portare la pace, ma per fomentare la guerra, non veni pace mittere sed gladium, mt. 10, 34. La fede. Dopo questo che cosa resta da dire, fuorché concludere con le parole dell'Apostolo, cura mintuente sexitum. Imitamini fidem, ebraico 13, 7. Gorgonio fu costante fino alla morte, della quale gustò a lungo l'amarezza e non resta che imitare la sua fede, la fede ardente, che gli fece preferire a tutti gli onori l'obrobrio di Gesù Cristo e rese il suo spirito integro e saldo, mentre il suo corpo si sfaceva in pezzi come un muro in rovina. Avviene dei martiri come avviene di un originale particolarmente interessante del quale tutti i pittori cercano di copiare qualche tratto per abbellire le loro opere. Noi vediamo nella loro vita espressa così bene la vita del Salvatore che tutto ci serve di esempio, ma in tanto splendore di virtù dobbiamo scegliere quelle che più ci sono necessarie nelle circostanze in cui viviamo. La testimonianza. Martire e testimone sono la stessa cosa. Chiamiamo martiri di Gesù Cristo coloro che, soffrendo per la fede, fede testimoniarono con le sofferenze e firmarono col loro sangue. Se più non ci sono tiranni che ci perseguitano, sappiamo dal Vangelo che Dio, nostro Padre, distribuisce ai Suoi figli beni e mali secondo il disegno della Sua provvidenza, mt. 5, 45. E quando noi ci troviamo afflitti, se riceviamo dalla mano di Dio con umiltà le nostre afflizioni, con questa sottomissione ad una intelligenza superiore e universale, che, per ragioni a noi nascoste ma giuste, prepara la nostra buona e cattiva fortuna, non rendiamo testimonianza. E che cosa è questo se non essere testimoni e martiri della provvidenza? Panegir. Del 9 settembre 1649. Vita. Di San Gorgonio, martire romano, spesso confuso coni. Suo omonimo di Nicomedia, sappiamo poche cose. Fu sepolto nel cimitero ai due lauri e papa da Masorno il suo sepolcro con una bella iscrizione. Le sue reliquie furono poi portate a San Pietro dal Baronio. San Gorgonio ebbe la fortuna di avere il suo storico in Eusebio, storia della Chiesa, Vili, 6, 2-5, e imbossueti il suo panegirista e deve a loro una parte della sua celebrità. ORAZIONE. Ci assista con la sua intercessione il martire Gorgonio, o Signore affinché la sua festa sia per noi giorno di santa allegrezza.